bene bene libro abbastanza e il culo fa abbastanza male quindi tutto bene dai si si non ho male grazie mille ci sentiamo ciao ciao devi fare le foto mentre hai un video anche devi iniziare a imparare a stare davanti alle telecamere eh lo so devo farti vedere una roba io ma infatti ho caldissimo le mani perché ho preso questi qua avevo preso quelli tipo in pelle dentro il casco forse ho lasciato 15 euro dei cinesi però buttati al vento perché sono troppo caldi pensavo fossero un po più freddi e ho detto almeno li compro dei cinesi e allora sto morendo di caldo le mani poi ne ho anche un'altra coppia o paio coppia della givi che invece sono un po più resistenti si si sono da moto però pesano due atti l'uso eh lo so non riesco più a impennare poi però si fa cos'è che stai facendo adesso? mi si svitata la forcella non so come hai fatto 60 km e la forcella ti si sta già svitando anche parezza una ciabatta però non dirlo ancora se lo vedo noi non vogliamo responsabilità eh no no figurati vi chiamo solo quando ho bisogno di soldi a voi mi sa che devi parlare con lui allora chiama chiama ti chiama sempre anche di notte non ti farò problemi Forse perdo un po' di benzina Sì, no, ma anche quello non è importante Attiriamo un momento Quindi qua ti sei fatto la tua presetta USB Esatto, qui c'è la Presetta USB, sempre alimentata Infatti ogni volta devo staccare il fusibile Sono dimenticato di mettere un interruttore Che ti serve per? Per staccare tutto la sera In compenso ho dedicato il tempo per attaccare il magliare E qua c'è la tua scatoletta degli attrezzi C'è la mia scatoletta degli attrezzi Questo cavolo Facette, sacre facette Facette servono per esperienza Ti dico che serviranno E nastro americano E boh Pararia Ma sai che serve? Mi immagino che vedrai benissimo Attraverso tutti quelli di chi Tanto sei più alto qua Bolletta Ci sono due ciao smontati dentro Poi c'hai tu le tue scatole Le tue sacche Cosa c'è dentro le sacche? Abbigliamento? Abbigliamento, fornello Pentola Minestre preparate E reso alla milanese E pasta e fagioli Per domani sera Le ciabatte le hai comprate dai cinesi O sei stato sponsorizzato? Ciabatte le ho comprate dai cinesi Insieme ai guanti Si mancava lo sconso Hai provato a proporgli un Un buon e Un buon e Non so se non lo sia No no Ma se tu chiude E via E anche la macchina fotografica nuova lo sai? La macchina fotografica nuova Sì lo so Guarda che bella Ah non chiude questa Prendila Prendila Sai come si fa? No Te l'ho già impostata che scatti Devi mettere un po' Devi solo schiacciare Davvero? Sì praticamente sì Poi imparando Ti metti la sera E impari un attimo a usarla Bellissimo Tu sei la persona più sponsorizzata del mondo Fattere questo Ma va Va a bilo o a batteria? No Tutte due Tutte due E devi mettere o le stile normali Oppure una batteria Adesso c'è una batteria Nessuna scheda Devo metterci E devi metterci la scheda Ce l'ho E poi Ti metti una sera davanti a un fuoco E impari a usarla Le persone vogliono vedere le foto Le persone? Che ti seguono Voglio vedere un po' di foto Ah Vedete un po' di cuo Vedete le pagnolette? Non la tiene da rompe Dalla focaccia Salviette per il cuo Un gelato Eh bravo Le salviette Sono fondamentali Mi obiettivo Mi obiettivo Mi obiettivo Mi obiettivo Mi obiettivo Mi obiettivo Mi obiettivo